Ciao a tutti, benvenuti sul canale Chorus Ballet Domani è il nostro anniversario e lei mi ha chiesto di fare una challenge Perché dice che sono così brava a fare il trucco Quindi oggi devo fare il trucco a lei per il suo spettacolo 5, 6, 7, 8 Questa è la foto che ho fatto qualche mese fa E devo rifare il make up che aveva fatto lei quel giorno Ah già, tu sei bravo Questo è un trucco abbastanza semplice Quindi spero di non fare danni Perché il problema è che ho una sola chance Perché lei va in scena fra un'oretta Anche di meno Fra mezz'oretta Ok, iniziamo, facciamo in fretta Step numero uno Io prime Ok, va bene Io c'è paura Step numero due Ora momento del fondotinta Step numero tre Adesso mi fa perfetta come una Barbie Lui pensa che è Leonardo da Vinci Step numero quattro Le sopracciglia Concentrazione 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 Io c'è paura Io c'è paura È difficilissimo È difficilissimo far sì che tutte e due le sopracciglia non siano uguali È impossibile Step numero cinque L'ombretto Step numero sei E glitter Step numero sette Eyeliner Questa è la parte pericolosa Lui c'è solo cinque minuti per finalizzare il mio trucco Step numero otto Questa è la città della MAC Step numero nove Le ciglia finte Step numero dieci Mascara per le ciglia Lui sei tan delicato Guarda questa mano È più delicato di me Step numero undici Questo è il rossetto Andiamo Lui ho dimenticato che bisogna lavorare Guarda me Guarda me Non guardo Io voglio lavorare così Andiamo a fare la comparazione Allora questo è il risultato del make up che ho appena fatto È stra diverso fare il make up a se stessi E farlo a un'altra persona Ero troppo lento Ci ho messo un'ora E non ho fatto in tempo a finirlo per lo spettacolo Ma va bene Mi piace così Mi piace così Lo rifaremo Lo rifaremo Magari con un make up più complicato se siete interessati E speriamo ti piace Bacione Bacione a tutti Adesso io vado a cantare e vediamo se tu ti piace lo trucco I prodotti che avete visto in questo video li trovate in descrizione Scrivete sotto nei commenti se ho vinto questa challenge E commentate anche se avete nuove idee per altre challenge che posso fare con la mia fidanzata Scrivete sotto nei commenti se ho vinto la mia fidanzata E se non è piuttosto E se non è piuttosto E se non è piuttosto Grazie a tutti.